Come coniugare lo sport, l'arte, la cultura, il buon cibo, insomma il corpo e la mente? Camminare per le nostre città d'arte. L'idea è venuta nel 2002 al comune di Siena con il trekking urbano, camminare appunto in città. Un'idea che già due anni dopo era esportata praticamente in tutta Italia. Si celebra la dodicesima giornata del trekking urbano in 50 città d'Italia. In Toscana sono Arezzo, Grosseto, Lucca, Pistoia ma anche Asciano, Murlo, Manciano in provincia di Grosseto e naturalmente Siena. Sì, siamo capofila di ben 50 città a livello nazionale. Quest'anno abbiamo battuto ogni record di partecipazione. Saranno praticamente percorsi all'interno del centro storico il 31 ottobre. Siena, essendo l'ideatrice del progetto, ha addirittura due giornate dedicate a questo. Noi abbiamo pensato di costruire un fine settimana interamente dedicato a quello che è il tema nazionale. Noi lanciamo un tema a tutte le città ed ogni città costruisce un percorso coerente con il tema che diamo. Quest'anno naturalmente è quello di Expo e abbiamo ricevuto anche il patrocino di Expo e a Siena l'abbiamo declinato in un percorso della giornata nazionale che partirà alle tre e mezza da Piazza del Campo, gratuito, dove il filo conduttore sono le opere d'arte che però si legano al tema del cibo, quindi dalle stoviglie ai scibi che vengono riproposti all'interno delle opere d'arte in un percorso però di trekking. La particolarità del trekking urbano è proprio che abbiamo portato all'interno delle città d'arte o dei borghi quello che abitualmente si fa in campagna, in montagna.